Ragazzi e ragazzi, siamo qui oggi riuniti per parlare, come potete vedere dal video, della nuova Triumph Trident 660. Questo è il primo tipo di video che faccio sul canale in assoluto. Sto facendo praticamente un video a casa, mentre registro lo schermo. Ovviamente voglio precisare che siamo sul canale ufficiale della Triumph, quindi questo è il video ufficiale, il launch event della Trident. Quindi non sto rubando video a qualcun altro, questa è la Triumph, anzi gli sto facendo addirittura pubblicità. Inoltre specifichiamo che io sono fiero possessore di una Speed Triple R dal 2016, quindi Triumph tutta la vita. Allora ragazzi, ovviamente noi non ci vedremo 11 minuti e 54 di video, ovviamente, però devo dire che, devo dire ragazzi che ho delle buone cose da dire su questa moto. Ho anche delle rimostranze, però devo dire che tutto sommato mi piace, devo dire che mi piace. Allora, se fosse per me in realtà io me lo guarderei tutto il video. Stunt coordinator? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, se miasionale, vediamo con la Half Air Force e 2 TRIImperca, agreed. Allora, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. �라, sì. Grazie a tutti. Ok, la prima cosa da sapere è che questo è un triplone, che è qualcosa che Triumph è molto benvenuto per noi, nella nostra famiglia di triplone e gli agenti che vengono in motore di raccoglione, e con il Triumph 660, questo è il primo e l'unico triplone nella categoria di motore di motore, che ha un'avventura molto grande, perché il triplone combina con la performance di low down, con la performance di motore di motore, con la performance di motore di motore, con la performance di motore, con la performance di motore di motore. Ovviamente Anche questa potrà diventare A2 di patente Technology Due riding mode, strada e pioggia, mi pare giusto, e traction control intercambiabile, acceleratore ride by wire, ormai è pure giusto ABS Display TFT, ovviamente, a colori Sistema di connettività ragazzi, quindi navigatore, GoPro e musica, quindi suppongo, vabbè abbia il bluetooth, bluetooth ovviamente Luce LED, ovviamente Self cancelling, interessante ragazzi, quindi queste sono le frecce che dopo un po' si tolgono da sole Capito ragazzi? Come la macchina, solo che nella macchina tu devi girare il volante, ovviamente E quindi chissà se le luci della Trident sono a tempo, quindi dopo qualche secondo si spengono da sole, o se appena rigiri il manubrio, ma non credo proprio Innanzitutto ragazzi Sono contento che abbiano scelto il sellone a pezzo unico E soprattutto anche i passeggeri ne saranno contenti Poi vedo che la sella è bassa, ho letto già dei dati che è 80 centimetri e mezzo, quindi abbastanza interessante Il serbatoio Il serbatoio è pacioccone, è grassottello, però senza essere esagerato ai lati E ci sono anche le due concavette per le ginocchia, per le gambe Devo dire che il serbatoio mi piace molto Showa, sospensione Showa E dietro un singolo forcello, il mollone, il forcellone Showa Aggiustabile Freni Nissin Ed esce con le Michelin Road 5 Allora, le Michelin Road 5 sono le ultime uscite, o comunque una delle ultime Sono considerate delle ottime ruote, se non altro costano assai Ho letto anche recensioni non proprio felici Ma la maggior parte delle recensioni delle Michelin Road 5 invece sono positive Quindi ragazzi, chissà Poi la ruota, ovviamente ci sono delle ruote che sono buone universalmente Ovviamente Però magari qualcuno si trova meglio con una marca piuttosto che un'altra Che vi devo dire ragazzi Io per esempio nella mia vita ho sempre avuto, ho solo avuto, non sempre Ho solo avuto Pirelli e Michelin Ho le Michelin sulla Ninja Lo sapete, ho fatto pure il video E ho le Pirelli sulla Triumph Di cui non ho fatto il video però Quindi non potete saperlo Ho pure fatto il video buh Io ho montato le Pirelli Angel ST sulla Triumph circa due mesi fa Era estate, ancora ad agosto Mi ci trovo bene Le Pirelli sono delle ottime ruote Ma anche le Michelin lo sono 189 kg Ecco, questa è una cosa che non mi piace Lo so, lo devo ammettere Per essere una 660 Per giunta nuda Devo dire ragazzi che 189 kg piena In ordine di marcia Quindi col pieno e con tutti i liquidi Non lo so ragazzi Avrei preferito magari 180, va 170 9-10 chiletti glieli potevano togliere Per essere una nuda di media cilindrata E un po' pesantuccia devo dire Oh finalmente ragazzi è una moto completamente nuova Lo chassis è completamente ridisegnato Anche se ragazzi Vedendolo così Togliamo un attimo i sottotitoli Vedendolo così A me ricorda Vi devo dire Vi devo dire che mi ricorda Una scrambler Che ha fatto l'amore Con un MV a gusta Cioè Mi piace Non sto dicendo che è brutta Ragazzi Mi piace Però la potevano fare Un pizzico più ispirata Potevano impegnarsi Un pizzico di più Per farla originale Ecco Sì Devo dire che il serbatoio è molto bello E devo anche dire Che mi piace molto Questa colorazione Che poi andremo a guardare sul sito Mi piacciono anche i Mamma mia Questi hanno il nome Ma non me lo ricordo I Pararadiatore laterali Che io però trovo pure sulla Speed Allora la coda Non dirò che è brutta Attenzione Però mi pare Proprio veramente Copiata Dalla Ducati E dall'MV a gusta Direi più dall'MV a gusta Non è brutta Attenzione Però Un po' copiatella Va Poi non ho capito Se questa cosa rossa Credevo fosse una luce gigante Invece è proprio Carrozzeria Cioè è una parte Chissà se è plastica O metallo Sembra plastica Devo dire Da come riflette la luce Spero di sbagliarmi Poi ragazzi Non mi fa impazzire Il quadrante singolo Tondo Capisco anche ragazzi La questione Praticità È chiaro che Su una moto del genere Che è praticamente Modern Vintage Mettiamola così Su una moto del genere Tu devi mettere O un quadrante Piccolo Orizzontale O un quadrante Tondo Non puoi fare Il quadrantone Gigante Supernavigatore BMW KTM Devi puntare A una cosa Minimalista 45 accessori Tipo Quickshifter Su e giù Quickshifter Scusate Maniglioni Maniglie riscaldate Come si chiama questa parte ragazzi? No non è la pancia Non credo si chiami pancia Vabbè Il sottoscarico Belli Perché belli Vuol dire pancia appunto In alluminio Il Il Come si chiama ragazzi? Il L'infrangivento Fly screen Ovviamente Bene ragazzi E qui poi cominciano A sparare cose Ora Siamo sul sito ufficiale Della Triumph Beh ragazzi Devo dirvi una cosa Questa nuova Trident Mi piace Mi piace Veramente tanto Ma ora Andiamo Bene a guardare Perché ci piace Innanzitutto ci piace Perché costa 8000 euro Ora In un mondo dove Anche le piccole cilindrate Quindi le 200 Le 300 Le 400 Stanno Diventando sempre più care Trovare una media A 8000 euro Inglese Quindi europea Fatta a mano Non è affatto male Una 660 A 8000 euro È una gran Bella cosa Coppia massima 64 Cavalli 81 Andiamo alle specifiche tecniche Ragazzi 6 e 60 Tre cilindri 81 cavalli L'abbiamo detto 64 newton metro Una 6000 giri Mi pare giusto Davanti abbiamo Uno showa E dietro Abbiamo uno showa Regolabile Davanti abbiamo Un doppio nissin E dietro Un mono nissin Giustamente Altezza sella 80 e mezzo Ricordavo giusto Per un peso totale Di 189 kg L'unica cosa Che mi fa storcere il naso È un serbatoio Da 14 litri Sì Sì Mi pare onesto Mi pare onesto Frizione assistita Anti saltellamento Ride by water Con traction control Disinseribile Road and rain L'abbiamo detto Le colorazioni ragazzi Abbiamo Il bianco Che non mi piace per niente Devo dire Abbiamo il nero Che già Già si può fare Ma mi ricorda Veramente tanto Una scrambler Veramente tanto E poi abbiamo Le due colorazioni toste Che sono quelle Che si prenderanno Chiunque Che è quella Col Il loghetto Triumph Spalmato sul serbatoio E costa Vedo 100 euro in più Ed è Nero Totalmente nero Col loghetto Triumph E il culetto grigio Diventa Quindi Qua è nero Qua è bianco E qua diventa grigio Ma la colorazione Veramente Veramente Bella È questa Eccola qua Grigio Stemma Triumph Culetto Rosso Parafango Frontale Rosso Pararadiatore Rosso E I laterali I para Forcellini Grigi Questo è veramente Bello Che dire Ragazzi La nuova Trident È Una bella moto Anche se Non mi raccordo Che ha il portatarga Supneumatico Un po' come la Diavel Sì Sì D'accordo D'accordo Per evitare di sporcare Il codone Per evitare di sporcare Il culetto Va bene Sì Sì Va bene Ragazzi La moto è bella La moto è bella Ha un prezzo interessante Per quello che è Una Triumph 660 Fatta a mano ABS Show arregolabile Di dietro Michelin Road 5 Due Due sistemi Due mappature Magari ne avrei volute Tre Va Mi potevate mettere La Road La Rain E mi mettevate O la personalizzabile O una più tosta Magari una Un pizzico più sportiva Per quelli che vogliono Fare i fighetti Però c'è Il super sistema Tecnologico Quindi hai Connettività con la GoPro E col telefonino Immagino Perché se ha La connettività Con la musica Quindi ha il bluetooth Quindi immagino Che abbia la connettività Col cellulare Bella ragazzi Bella La Triumph Ha azzeccato Ripeto Se la guardo così Mi sembra di vedere La figlia dell'amore Della Scrambler E dell'MV Agusta Però non è brutta Ripeto Non sto dicendo Che brutta L'avrei voluto Un pizzico Più originale Ma tutto sommato È una bellissima moto Lo scarico ovviamente È basso Come va di modo Ultimamente Anche se Questa pancia qua Andrebbe cambiata subito Quindi la prima cosa Che farete Sarà Comprarvi un SC Project O una Krapovic Fate voi Però questo grosso Pancione di sotto Va tolto subito Tutto sommato Ragazzi La moto Vince Per la tecnologia Che ti dona Per il prezzo Che ti dona E per la manifattura Inglese La Trident Vince Da Sicani È tutto Un bacione Di ai tuoi compari Di Miami E al tuo amico Che sarà un piacere Io un comunista Lo amazzo anche Gravis